Il campionato certamente fra i protagonisti annunciati di questo match. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. A giudicare da quello che è vero, direi che hanno scelto il più classico dei 4-4-2 per il match di oggi. Modulo sicuramente tra i più utilizzati in assoluto, ma che si presta parecchie interpretazioni. Sono curioso di vedere cosa è in serbo dunque l'allenatore. Si fanno vedere i compagni. Va con il possesso palla, non riesce a fermare l'attaccante. Troppo più forte di lui in questa circostanza. Ci arriva l'attaccante, attenzione, pericolo. Ottima lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Barton in contropiede. Opportunità! I legni della porta negano il gol all'attaccante. Sfortuna o errore Stefano? Gray un po' tutti e due, Pierre. Poteva fare sicuramente meglio. E' anche vero però che la cattiva Sote ci ha messo del suo, eh. Si avvicina all'area. Occhio che guadagnano a metri. A metri a disposizione. E c'è la conclusione. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Pattenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. E' un gol importantissimo in chiare promozione. Sarebbero promossi se la partita finisse adesso. Hanno trovato subito il gol che cercavano. Peccato ma anche ancora non è avvita da giocare. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Baragna metri. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Bravi qui a bloccare tutto. Occhio al movimento dei compagni. Potrebbe essere il gol del pareggio. Ma come si fa a spregare un'occasione così Stefano? Stavo per farti la stessa domanda. Sai Pier, devono essere più lucidi, più concreti sotto Porta. Solo così possono scrivere di arrivare al pareggio. Gara che sta per chiudersi. Al momento sono promossi ovviamente virtualmente nella serie superiore. Ancora un ultimo sforzo. E dopo potranno finalmente sfogare tutte le tensioni accumulate nell'arco della stagione. Trossi in mezzo. Pesa passiva qui. Attenzione. Si porterà più due con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. È un gol questo che può spalancare lo scenario della promozione. Hanno ormai la promozione in pugno. Addo raddoppiato. Adesso sono avanti 2 a 0. Occhio cerca l'area di rigore. Prova la botta. Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Pallone interessante. Occhio al traversone. Ha staccato più in alto di tutti su questo cross. E l'ha messa alle spalle del portiere. Deviazione di testa perfetta. Nulla da fare qui per il portiere. Grande tempismo. Grande stacco per l'appuntamento col pallone. Si avvicinano a grandi passi e alla promozione grazie a questa rete. Difficile a questo punto che possa sfuggirgli. Cappionato che per loro sta andando veramente alla grande fino a questo momento. Possono essere sicuramente soddisfatti della loro posizione in classifica. Continuano a regalare grande calcio. Gol. E non hanno intenzione di fermarsi. Direttore di gara non interviene qui. Lascia correre. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. C'è spazio per andare. Gran tiro. Buona. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori. Ma stavolta è scattato in anticipo. Bravo l'assistente a segnalare la posizione di offside. Non era una chiamata semplice. Ha interrotto una potenziale occasione da gol. Oscar. Punta l'area. Attenzione. Attenzione. Rete. Palla che rimane bassa. Trova l'angolo giusto. Trova la zona giusta. E arriva il gol. Hanno aumentato ulteriormente la chance di promozione con questo gol. Difficile a questo punto che possa sfuggirgli. Come vede la porta lui? Non la vede nessuno. Partita che assume ormai una fisiologia molto precisa. Ci sono metri a disposizione. Palla vagata. Deviazione in out. Si ripartirà con la rimessa laterale. Baragna metri verso l'area. Non può sbagliare da lì. Non trattiene. Attenzione. Palla che se fosse passata avrebbe creato problemi davvero seri alla difesa. Molto bene qui il difensore. Occhio al suo movimento. Può metterla in aria. Palla messa dentro. Ci saranno da recuperare due minuti. Due minuti. Trossi in mezzo. Palla molto interessante. Poteva far di meglio su questo colpo di testa. Forse non se l'aspettavo. Più semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto. Capita. Squadra è negli sfogliatori. Finisce il primo. Inizia la ripresa del match. Finora davvero a senso unico. Occhio cerca l'area di rigore. Guarda il movimento in aria. Attenzione occasione. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Anch'io sarei molto arrabbiato. Abbastanza comprensibile. Si avvicina all'area. E calcio di punizione. Occhio perché è una posizione interessante. Poteva certamente fare meglio. Non un granché questa punizione. No, 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 no. Palla che è terminata abbondantemente sul fondo. Rivedibile. Baragna metri. Pallone profondo, pericoloso. Può metterla da lì. Pallone in gioco. Attenzione. Spazzano via il pallone. Cerca il traversone. A tetta qui la difesa. Palla allontanata. C'è spazio per andare. Occhio al tiro. Ha cercato la tripletta. Ma qui senza successo. Sarà per la prossima volta. Punta l'area. Va con il possesso palla. Prova a andare. Conclusione da dimenticare. Questa scarsa coordinazione. Postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Ci sono metri a disposizione. C'è il rilancio lungo. C'è aria di cambio. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Si ferma Azione. Nessun dubbio. Per il guardaline è fuori gioco. Bel passaggio. Guadagna metri verso l'area. Lo ferma ma non controlla. non può sbagliare da lì. Riuscita a fermarlo. Ottimo intervento del difensore che la mette in corner. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Occhio in mezzo. Può cercare il cross. Nessun problema per il portiere. Ancora 20 minuti per l'esperanza delle due squadre. Recupera il pallone con un intervento facile. Occhio al suo movimento. Intervento provvidenziale del portiere. Si prova a farlo ma si gioca. Via, via, via. Fermo l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Occhio cerca l'area di rigore. Palla che esce. Touche. Rimessa laterale. Nessun dubbio qui. Dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Ottima la chiusura. Fermo l'azione. Viene pressato. Si avvicina all'area. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Buono il lancio. Parte il tiro. Si avvicina la bandierina per il calcio d'acqua. Giocatore che abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona, buona. La sua prestazione è stata buona? una delle migliori. Ecco il tiro. Tira il rispinto dal difensore. Ha provato a piazzarla. Buona l'idea. Meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta dalle conclusioni che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Baragna metri. Interviene proprio all'ultimo e salva. Ci sono metri per andare. l'occhio al pallone filtrante. Occasione d'oro. Pallone in gioco. Attenzione. Trova a pressare. Palla schizza via dopo il contrasto. può metterla in aria. La difesa alla meglio e allontana il pallone. riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. E' un momento magnifico ovviamente per la squadra, per i tifosi, per l'allenatore, per la società perché la promozione rappresenta qualcosa di fondamentale, il coronamento degli sforzi di una stagione intera. Ed è meraviglioso. Anche le nostre immagini testimoniano veramente la luce negli occhi di questi giocatori che hanno raggiunto uno scopo, lottato quotidianamente per raggiungerlo. meraviglioso. E' meraviglioso vederli, meraviglioso il loro entusiasmo e quello che hanno fatto. E ne ha anche Stefano da sottolineare che anche quelli più esperti che magari qualche avventura è importante.